Anche quest'anno abbiamo aiutato centinaia di famiglie a staccare il contatore del gas e a trasformare case in edifici 100% elettrici mantenendo l'impianto esistente quindi senza stravolgere l'impianto. Oggi ti racconto un po' di numeri e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale youtube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Nel 2019 abbiamo accompagnato centinaia di famiglie a investire un kilowattora di energia elettrica per ottenerne 5 kilowattora di energia termica per riscaldare a casa. Un grande investimento con le pompe di calore professionali. Una resa così buona da permetterti di staccare per sempre il contatore del gas e utilizzare solo l'energia elettrica per riscaldare casa e l'acqua calda sanitaria. Poi se hai un impianto fotovoltaico ancora meglio. Ma non c'è nulla di magico in tutto questo. È lo stesso principio del frigorifero che hai in casa che esiste da 100 anni. Il frigorifero infatti estrae calore al suo interno lasciandolo fresco e lo butta all'esterno, lo butta dietro, no? La pompa di calore fa la stessa cosa ma noi utilizziamo il calore estratto per riscaldare casa. Ma per maneggiare le pompe di calore ci vuole gente esperta, ci vuole chi ti segue nella fase di consulenza iniziale per capire quale pompa di calore è più adeguata al caso tuo, dirti quanto consumerà e tante altre cose. E poi ci vuole anche un installatore che sia in grado di fare un lavoro professionale e che ti segua anche dopo l'installazione. Infatti per questo è nato Sigillo Sicuro, una rete di installatori, progettisti e di consulenti che aiutano le famiglie a staccarsi dal gas. Non siamo dei semplici consulenti che fanno dei preventivi e ti trovano la migliore soluzione. Sigillo Sicuro è una rete che ti accompagna nel tuo sogno di staccarti per sempre dal gas, seguendo dalla A alla Z, quindi dalla progettazione fino al collaudo. Quest'anno è stato molto intenso, abbiamo dato dei consigli a migliaia di famiglie che si sono scaricate il libro, le 24 più 5 domande sulle pompe di calore a cui nessuno sa rispondere. Oltre 2 milioni di minuti di visualizzazione sono stati visti nel mio canale YouTube. Ho realizzato diversi seminari in giro per l'Italia, dedicati ai progettisti e dedicati agli installatori. E anche qualche evento per i privati, per aiutare le famiglie a scoprire questo mondo di vivere senza gas. Poi Luca Mercalli, quello che sicuramente hai visto in televisione, mi ha aiutato a recuperare i dati meteo di diverse città italiane, in modo da poterli utilizzare nel mio software professionale di simulazione per le pompe di calore. È un software che permette di calcolare quale pompe di calore è più idonea al tuo caso e definire quanto consumerà ancora prima di installarla. Abbiamo analizzato poi migliaia di casi con le preanalisi di fattibilità che in questo momento sono gratuite e puoi trovare il link qui sotto. E abbiamo fatto centinaia di simulazioni per capire e progettare impianti come si deve. Mi spiace poi per tutte le famiglie che quest'anno si sono adeguate e hanno installato soluzioni ibride, quindi pompa di calore più caldaia. Per un semplice motivo, perché non riusciranno mai e poi mai a staccarsi dal contatore del gas. E poi per quelle persone che hanno scelto magari prodotti un po' scadenti perché convinti dal venditore di turno che quello era il meglio del mercato. E poi non si è rivelato così. E non si è rivelato così semplicemente perché non riusciva a riscaldare a casa nei giorni più freddi. Oppure sono arrivate bollette dell'energia elettrica stratosferiche. Comunque dai, per il 2020 abbiamo già programmato tante cose nuove e sarà un anno di grandi novità, di tanta professionalità specializzata nelle pompe di calore. Ma oggi non è il momento di svelare i segreti. Scoprirai tutto seguendomi nei miei canali, quindi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn e su Instagram, dove avrai modo di scoprire tutte le novità. E con questo ti saluto e ti auguro un gran 2020 ricco di soddisfazione. Però adesso prenditi del tempo e dedicalo alla famiglia, che è il bene più importante che abbiamo.